In un precedente video, questo qui per l'esattezza, ho mostrato come generare entrate da bitcoin esentasse. Se te lo sei perso lo puoi trovare qua sotto nella descrizione del video e anche qua sopra, ti basta cliccare qui e andare a vederlo. In questo video voglio entrare ancora più nel dettaglio, mostrandoti nella pratica come ottenere un prestito a partire da bitcoin o altre criptovalute date in garanzia. Per farlo utilizzeremo Nexo, la piattaforma attualmente leader nel settore dei prestiti, ma tu puoi farlo anche con qualsiasi altra piattaforma, ci sono tantissime soluzioni là fuori. Io ho scelto di usare Nexo proprio perché è attualmente la più grande e la più solida. Come funziona Nexo? Molto semplicemente Nexo fa da ponte tra chi ha liquidi e chi li cerca. Quindi tra chi vuole prendere in prestito denaro e chi invece lo offre. Nexo si mette in mezzo, il suo business è proprio quello di fare da ponte tra queste due figure qua, rendendo i prestiti accessibili senza tutti quei casini che bisogna fare quando si va a chiedere un prestito in banca. Prestiti quindi immediati, facili da ottenere, velocemente, a partire da liquidità data in gestione da chi ha liquidità. Io personalmente uso Nexo per entrambi i casi e ti mostro tra pochissimo come. Cosa ci guadagnano le persone a mettere liquidità? Ci guadagnano degli interessi, quindi degli interessi percentuali su quello che depositano. Nexo cosa ci guadagna? Anch'esso una percentuale di questi interessi. Quindi Nexo ti fa da ponte, tu puoi mettere la tua liquidità su Nexo. Nexo la presta per te a persone che chiedono questi prestiti. Queste persone pagheranno degli interessi e questi interessi una parte li tiene Nexo e una parte vengono distribuiti a te. Poi Nexo ha connesso anche un exchange, quindi puoi scambiare le crypto o le stablecoin o gli euro che vai a depositare. Di conseguenza ottiene ulteriori entrate da tutte le varie operazioni che vengono fatte sulla piattaforma. Però questo è come funziona Nexo in brevissimo. Prima però di parlare dei vantaggi che offre questa soluzione qui, quindi quella dei prestiti, dobbiamo necessariamente parlare dei rischi. E partiamo proprio da questi perché sono la parte cruciale, più importante da tenere in considerazione. Il primo rischio, chiaramente stiamo parlando di prestiti. Quindi stiamo prendendo in prestito del denaro e come ogni prestito non andrebbe mai sottovalutato. Cioè non è che prendo soldi e faccio come voglio, no. Bisogna chiaramente prendere in prestito consapevoli di ciò che si sta facendo. E qual è il rischio principale in questo caso? È il rischio, si chiama, di liquidazione. Liquidazione da collaterale. Perché? Perché i prestiti su Nexo sono tutti prestiti collateralizzati, si dice. Quindi dove noi andiamo semplicemente a offrire in garanzia un asset, un bene, che sia una crypto o anche una stablecoin, per ottenere in prestito qualcos'altro. E questa è la prima grande differenza. È il motivo per cui è molto più accessibile, più veloce come prestito rispetto a quello in banca. Perché se io vado in banca, mi vengono dati soldi, sì, a fronte dello stipendio piuttosto che, però di fatto non do un asset in garanzia. Cioè non gli dico ipotecami la casa e dammi un prestito. Posso anche fare così, certo, ma tendenzialmente non farò così. Quindi il prestito base della banca o i finanziamenti base della banca funzionano in altro modo. Nel caso invece di Nexo io devo dare una garanzia. Perché i soldi che Nexo sta prestando non sono i soldi propri. I soldi che la banca presta sono soldi che vengono stampati nuovi nel momento in cui si va a richiedere un prestito. Nel caso di Nexo invece sta dando fondi di terzi. Quindi io che deposito liquidità su Nexo voglio essere sicuro che la mia liquidità sia al sicuro, che sia protetta, che non venga data magari a uno che non ripagherà mai il prestito. Allora Nexo cosa fa? Ti dà un prestito veloce ma a fronte di una garanzia. Esempio, io ti devo dare dei bitcoin che ho in portafoglio come garanzia e Nexo ti può dare massimo fino al 50% del valore di quei bitcoin che hai dato come garanzia. Esempio, questi bitcoin valgono 100 euro. Bene, Nexo può darti massimo in prestito 50 euro a partire da quei 100 dati in garanzia. Ma questi bitcoin dati in garanzia possono andare in liquidazione. Cioè Nexo che cosa vuole? Vuole essere sicura che i fondi che sta prestando, che sono fondi nostri di altre persone che hanno depositato sulla piattaforma, vengano effettivamente saldati. Quindi vengono ripagati, cioè vengono conservati, non devono essere sciupati. Quindi, allora, nel momento in cui, esempio, io ho messo 100 euro di valore di bitcoin come garanzia Nexo, se il prezzo di bitcoin scende e il valore di bitcoin mi va giù andando a colpire quello che si chiama il TVL, in questo caso una possibile liquidazione potrebbe scattare, magari arriva a valere 60 dollari, cioè 60 euro e ancora non succede niente, ma nel momento in cui raggiunge i 50 euro, quindi quello che io ho preso da Nexo come prestito, allora Nexo che cosa fa? Vende tutti quei bitcoin e riprende i 50 euro, perché ora bitcoin è sceso e quindi il valore che io ho dato in garanzia vale 50 euro, ti manda in liquidazione e quei 50 euro sono ridistribuiti chiaramente a chi li ha prestati. Quindi è un modo per garantire sempre la liquidità e la possibilità di prelievo per il momento in cui io deposito su Nexo, i miei fondi vengono prestati, ma io ce li ho immediatamente accessibili. Perché? Perché hanno tutta una serie di liquidità e tutta una serie di fattori che entrano in gioco, ma che ti parlerò, ti mostrerò magari in un altro video, non in questo se non diventa troppo lungo. Però questo è per dirti che il primo focus di Nexo è, sì, la velocità e la facilità con cui eroga un prestito, ma anche la tutela assoluta dei fondi di chi va a depositare per ottenere semplicemente interessi. Questo è molto molto importante e si va quindi a parlare di liquidazione. Ma lo stesso avviene anche nel mondo tradizionale. Anche nel mondo tradizionale se io do in garanzia un asset e ottengo un prestito a fronte di quell'asset che ho dato in garanzia, una casa, un'auto, qualsiasi cosa, azioni societarie per esempio, nel momento in cui però quel valore, quel controvalore che ho dato va giù, la banca può essere autorizzata a vendere quello strumento, quell'asset che ho dato per ripagare il debito se ancora non l'ho pagato. Quindi questo è il primo grande rischio a tenere in considerazione, il rischio di liquidazione. Ma non ti preoccupare perché in questo video ti mostro come arginare questo problema, come ridurlo al minimo. Il secondo grande rischio qual è? Beh, il rischio delle terze parti, cioè il rischio delle piattaforme a cui ci affidiamo. È vero che Nexo è oggi leader di settore in quest'ambito, è vero che Nexo ha uno storico molto solido, è vero che tanti i suoi competitor sono falliti, ma Nexo è rimasta sempre in piedi. Ma ciò non toglie che noi stiamo dando a terzi le nostre crypto, stablecoin che siano quindi il nostro denaro, lo stiamo dando in gestione a terzi, o meglio in custodia a terzi. Io sono un fan dell'autocustodia, cioè del tenersi le proprie crypto, i propri bitcoin in un hardware wallet al sicuro. Però in certi casi può essere utile fare questo tipo di manovre, utilizzare quelli che sono per esempio gli exchange. Ma qualsiasi tipo di exchange, qualsiasi tipo di piattaforma, Nexo stessa, sono tutte piattaforme di custodia. Non vuol dire che non debbano essere utilizzate, però dobbiamo farlo con cognizione di causa, cioè consapevoli che potrebbero fallire, potrebbero essere censurate, bloccate, potrebbero avere un sacco di problemi, e di conseguenza è importantissimo, veramente fondamentale, essere a priori consapevoli di questo rischio qui. Quindi noi stiamo dando dei bitcoin, o qualsiasi altra cosa scegliamo di dare, che andiamo a depositare su Nexo, lo stiamo dando in custodia. Di conseguenza è importante essere consapevoli che dall'altra parte chi sta ottenendo in custodia, chi ci sta tenendo in custodia gli asset, potrebbe fallire tutto il resto. Ma questo vale anche con le banche. Cioè, idem, stessa cosa, anche le banche falliscono, tutti possono fallire. Quindi teniamoci bene a mente questa cosa qui. E a proposito di banche, un giorno, molto presto probabilmente, questo tipo di gioco che ti sto per mostrare, sarà tranquillamente fattibile anche nelle banche tradizionali, negli istituti di credito tradizionali. Per ora non è ancora possibile, e di conseguenza dovremmo utilizzare altri tipi di piattaforme, come appunto Nexo. Ho scelto di farlo su Nexo, ripeto, perché ad oggi la più grossa è il leader di mercato, e quindi se devo scegliere di espormi a rischio di controparte, cioè di andare a depositare dei fondi, di dare la custodia di alcuni miei fondi per fare delle pratiche, che tra poco ti mostro, allora preferisco farlo con il leader di settore piuttosto che con l'ultimo arrivato. Questo è il senso, ecco perché ho deciso di utilizzare Nexo in questo video. Dunque, partiamo allora con il vivo del nostro percorso. Allora, primo step. Qual è il primo step? Chiaramente avere una strategia, sapere esattamente, avere un'idea di ciò che devo fare, di come funzionano i prestiti, e di quali possono essere gli scenari a cui vado ad espormi nel momento in cui vado a richiedere un prestito. Quindi è fondamentale avere una strategia. Non vado a prendere prestiti così a caso, no. Perché è molto facile quando si usa soldi di altri cadere nella tentazione di sovraspendere e quindi sovracollateralizzarsi e quindi aumenta il rischio di liquidazione. Ecco perché io devo avere un piano dettagliato, una strategia dettagliata che mi permetta di capire a priori come mi sto muovendo e come ho intenzione di muovermi. Ed ecco perché ti rinnovo l'invito a guardare il video che ti ho menzionato prima. In quel video sono andato estremamente nel dettaglio e ho anche offerto uno strumento gratuito che puoi utilizzare per tracciare un foglio di calcolo per strutturarti il prestito, fare dei backtest sugli asset perché io ti ho mostrato Bitcoin ma tu puoi farlo con qualsiasi asset tu voglia. E per questo è estremamente importante però comprendere bene come ci si muove. Quindi guarda quel video lì, è un pochino lungo però è molto molto dettagliato e ti mostra esattamente come mi muovo io quando devo andare a scegliere un asset da utilizzare come collaterale per ottenere un prestito. Una volta hai guardato quel video lì, torni qua e guardi questo video qui perché è una naturale conseguenza. Creata la nostra strategia possiamo passare al nostro step numero 2 e qual è il secondo step? È ovviamente creare un account su Nexo. Creare un account su Nexo è semplicissimo, ti basta cliccare il link che ti lascio qua sotto in descrizione, utilizzi una mail, quindi ti registi con una mail, una password, fai la verifica dell'identità con il tuo documento, fronte, retro e un selfie e in pochissimo sei attivo e puoi iniziare a depositare, ottenere interessi su ciò che vai a depositare o anche chiedere in prestito fondi, puoi richiedere la carta fisica, ci sono un sacco di cose, funzionalità incredibili ma ne ho parlato in altri video che ti lascio sempre qua sotto nella descrizione. Importante in questo secondo step è anche scegliere la cripto giusta. È molto 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 importante la scelta dell'asset che stiamo utilizzando. Ricorda che noi vogliamo utilizzare degli asset che siamo disposti a tenere a lungo termine che quindi non vogliamo vendere. Io questo gioco per esempio lo faccio con due asset, bitcoin e oro, in questo caso utilizzando Pax Gold, ma principalmente lo faccio con bitcoin. Perché? Perché sono due asset che secondo me nel lungo termine andranno ad apprezzarsi e di conseguenza voglio tenerli, detenerli in portafoglio senza venderli e utilizzarli chiaramente per generarmi liquidità tax free, quindi esentasse e tra poco ti mostro bene il dettaglio come fare. Però questo è per dirti che non devi fare questo gioco con valute tipo Doge, Shiba Inu o Pepe e tutte ste robe qua. No, sono troppo volatili e quindi non va bene perché aumenta drasticamente il rischio di liquidazione e due sono valute che potenzialmente possono andare a zero. Bitcoin è estremamente difficile che possa andare a zero. Pax Gold invece è comunque gestito da un'entità terza, quindi da una società, quindi i rischi di controparte sono maggiori, ecco perché scelgo più bitcoin rispetto che Pax Gold, però ha comunque una stabilità estremamente diversa con assicurazione e tutta una serie di cose rispetto uno Shiba Inu per intenderci. Quindi veramente fai attenzione alle cripto che scegli e scegli in modo oculato. Il terzo step è quello di dare in garanzia alle cripto che abbiamo scelto e ottenere un prestito a partire da S. Ricordo, il prestito non è tassato perché quando è che viene applicata la tassazione? Cioè quando è che lo Stato arriva e ci fruga nelle tasche? Arriva e ci fruga nelle tasche quando c'è un evento di vendita. Ma se io non vendo non ho generato né una minus valenza, ma in questo caso ovviamente non paghiamo tasse perché siamo in perdita e nemmeno una plus valenza però. Cioè le tasse, che sia il 26%, che sia il 42%, adesso voglio intrarlo al 42% ma a me faceva schifo già anche il 26% motivo per cui utilizzo questa pratica, però obiettivamente se io dovessi pagare delle tasse sulle cripto le pago nel momento in cui genero una plus valenza. Cioè io compro Bitcoin a 100€, domani Bitcoin vale facciamo 300€, sono in profitto di 200€, allora su questo vado a pagare delle tasse. Ora, nel caso in Italia la plus valenza minima è 2000€, quindi fino a 2000€ non pago tasse. Quindi questo video se tu hai una plus valenza minore ai 2000€ lascialo pure perdere, cioè vendi e utilizzati le cripto se vuoi, a meno che tu non voglia come ti ho mostrato nel video che ti ho citato all'inizio, costruire ricchezza nel lungo termine, quindi non vuoi vendere le tue cripto ma monetizzarle comunque, allora lì è un altro paio di maniche, però sappi che fino a 2000€ l'anno puoi monetizzarli senza pagare plus valenza. Da lì in su invece sì, quindi se tu hai un capitale un po' più grosso come il mio, allora ti gireranno le palle dare il 26% o il 42%, cioè tu ti assumi il rischio e devi pure pagare, vaffanculo, non mi piace e questo non piace neanche a te, ne sono sicuro, cioè non penso che ci sia nessuno al mondo che ama le tasse se non quelli che le applicano. Detto ciò, che cosa faccio io? Non vendo, quindi sì, aumenta il mio valore in portafoglio ma io anziché vendere chiedo un prestito, magari di quei 200€ o quello che è, in questo caso no perché il rischio di liquidazione sarebbe troppo alto ma ti spiego adesso come funziona e di conseguenza non essendoci vendita non c'è plus valenza e di conseguenza non c'è tassa. Poi vado a ripagare il mio debito e il caso è chiuso, fine dei giochi. Ora su Nexo ci sono tre modi per richiedere un prestito e dipendono ovviamente dalla tua strategia e dal motivo per cui stai chiedendo quel prestito ma rimani con me fino alla fine del video perché alla fine del video ti mostra esattamente per che cosa si può chiedere un prestito e come utilizzarlo in leva. Ora però torniamo ai nostri tre punti i tre modi per richiedere un prestito sono 1. Puoi chiedere sul tuo conto Nexo USDT USDC e quindi diciamo Stablecoin. Cosa ci farai con queste Stablecoin? Per esempio potrai ricomprare a prezzi facciamo buy a prezzi più bassi e lo vedremo e lo vedremo poi alla fine come ho detto 2. Puoi richiedere valute Fiat quindi euro sterlina e dollaro Cosa puoi fare con questi? Puoi prelevarli con bonifico quindi mandarteli sul conto se vuoi prelevare 100.000 euro ovviamente non li userai non striscerai una carta ma te li farai inviare con il bonifico sul tuo conto 3. Puoi utilizzare la carta di credito che c'è sia virtuale sia fisica non a costi e ti permette di fare un sacco di belle cose quindi a seconda della tua situazione della tua strategia o del motivo per cui usare il prestito potrai optare per una due o tre soluzioni importante la terza soluzione non la mostrerò in questo video perché l'ho già mostrata in un video che ti lascio sempre qua sotto quindi lì potrai andare a vedere tutti i dettagli della carta di credito barra debito di Nexo e quindi non te lo vado a spiegare qui perché altrimenti diventerebbe un video troppo lungo noi qua ci focalizzeremo su questi due aspetti sul perché utilizzarli come e nella pratica sì effettivamente come creare come ottenere questo prestito ma obiettivamente la cosa più importante in assoluto per che cosa applicarlo quindi vado a mostrarti subito come funzionano le prime due opzioni qua siamo sul nostro conto didattico Nexo soldi reali sono soldi reali questi che sono qua sotto è uno dei conti che porto avanti qua per mostrare come funzionano i rendimenti come va avanti appunto il tutto qui come puoi vedere appena entro in Nexo ti conviene fare questo gioco da computer perché si vede molto meglio puoi farlo anche dall'app però su computer si vede meglio è più grande il mio saldo totale sono 6488 dollari qua sopra su questo portafoglio Nexo la mia credit line questa qui che cos'è? è la quantità di denaro che posso prendere in prestito quindi a fronte ai miei 6488 euro posso prendere in prestito fino a 5333 31 dollari cosa vuol dire? quasi il 100% di quello che ho in portafoglio poi interest earned sono gli interessi che ho guadagnato qua su Nexo perché perché io oro la liquidità ferma qua su Nexo e in automatico nel momento in cui io deposito Nexo che cosa fa? fa quel gioco da ponte va a prestare la mia liquidità che sia in bitcoin che sia in Pax Gold che sia in Ethereum che sia in WSDT WSDC qualsiasi cosa lui in automatico va a prestare quindi non devi cliccare niente non devi fare nulla depositi, aspetti ottieni interessi giornalmente interessi quindi composti ogni giorno sul tuo conto e in questo caso ho questi interessi qua e poi il livello il livello è molto importante perché determina quanto pagherai anexo di commissioni sul prestito che vai a contrarre e vediamolo subito oltre agli interessi te li faccio vedere giusto per avere un'idea di massima si va dal base fino al platinum il base non devi fare assolutamente nulla quindi depositi e se già base silver devi avere tra l'uno e il 5% di quello che hai depositato in controvalore in nexo token cosa significa significa se tu vai a depositare 100 euro almeno almeno l'un per cento quindi uno barra cinque euro devono essere in nexo token quindi devi comprare il loro token se vuoi essere gold almeno il 5 10% quindi tra i 5 nell'esempio di prima e i 10 euro devono essere in nexo token se vuoi essere platinum sopra il 10% quindi almeno 10 euro nell'esempio dei 100 euro se ne metti 1000 devono essere 100 se ne metti 10.000 devono essere 1000 ovvio percentuali base ora vediamo gli interessi giusto per completezza che cosa guadagni gli interessi il base sulle crypto un 4% sulle fino un 4% sulle stable coin un 8% usd euro esterlina 5% quindi sulla liquidità ferma 5% nexo token 4% nexo token rimane sempre uguale poi il livello successivo 425 425 565 459 6 510 7 quindi più è alto il tuo livello quindi più nexo token possiedi stando ovviamente nelle percentuali che ti ho detto prima quindi queste qua più ovviamente guadagni interessi per la liquidità che hai ferma cosa costa invece il prestito allora uno base paga un 18.9% che è comunque di interesse nexo che è comunque meno del 26% e meno ancora del 42% quindi anche con un base senza esporsi a rischio del nexo token io qua sono tranquillo sono a posto poi 17.9% per il silver il gold paga tra un minimale del 5.9% fino a un 13.9% il platinum da un 2.9% fino a un 10.9% ora ovviamente per essere platinum io devo comprare dei nexo token comprare dei nexo token mi espone alla volatilità del prezzo cioè perché un conto se compro 10 euro un conto è se ho magari 200k 300k o un milione su nexo non trarre mai un milione su nexo però per dire allora magari devo avere 100k in nexo token e inizia a diventare pesante un piccolo consiglio che ti posso dare e ho fatto un video a riguardo puoi shortarlo in modo da diventare neutro sul mercato cioè se tu hai liquidità hai un po' di liquidità esempio esempio pratico deposito 10k qua su nexo che significa che devo avere il 10% in nexo token per essere platinum per accedere a un prestito migliore ciò vuol dire che il 10% di 10k sono 1000 dollari quindi il 10% di 10.000 è 1000 e io devo avere questa quantità in nexo token però poi il nexo token può crollare quindi mi si può ridurre di tanto quella percentuale di portafogli una cosa che potrei fare è semplicemente comprare 10k di nexo token e andare su un qualsiasi exchange o anche direttamente da dentro nexo cioè il nexo plus andare short di 10k sul nexo token in questo modo io divento neutro quindi non ho il rischio di calo del portafoglio in questo caso e rimango comunque con i vantaggi del platinum ovviamente se il nexo token sale sarò comunque neutro quindi non andrò a beneficiare della crescita del nexo token questo è sicuro però ottengo interessi in nexo token quindi vado ad accumularli contemporaneamente e questo è positivo con quel 4% che ho detto di interesse però questo è un altro paio di mani che te l'ho detto per completezza in modo da andare a se hai più liquidità e vuoi esporti in questo modo per avere degli interessi meno costosi puoi utilizzare questa soluzione qui torniamo al vivo io decido quindi quanto voglio prendere in prestito perché ho fatto tutto il lavoro prima la strategia e tutto quello che voglio a questo punto come ottengo il nostro prestito torniamo alla dashboard devi sapere che ogni asset che hai tu nel portafoglio ti dà la possibilità di accedere a più o meno prestito in questo caso perché io ho un prestito così alto a fronte di questa liquidità una potenzialità di prestito così alto a fronte di quella liquidità perché la maggior parte del mio denaro qui su Nexo il mio holding è in USDT come vedi in stablecoin e una parte in PAX Gold quindi in oro che sono due asset estremamente stabili la stablecoin è stablecoin quindi niente da dire mentre l'oro ha un'oscillazione ma sicuramente oscilla molto meno di quando mi può oscillare un Ethereum un bitcoin o un doge o qualsiasi altra cosa o un Nexo token stesso quindi a seconda di che tipo di valuta ho depositata qua e che utilizzo come garanzia cambia ovviamente quello che si chiama il TVL cioè la possibilità di essere liquidati o meglio la soglia che posso prendere in prestito ti mostro come fare io qua ho vediamo un attimo 5.000 dollari in WSDT 800 dollari in oro ah tra l'altro gli interessi che generi sono generati nella valuta che tu hai depositato se tu depositi bitcoin ottieni interessi in bitcoin se tu depositi dollari ottieni interessi in dollari oro in oro e così via poi ho 200 dollari di Nexo token poi ho 166 in WSDC e 100 dollari in bitcoin quindi una cosa che potrei fare per esempio per questo esperimento qui tendenzialmente io prendo in prestito per essere tranquillo circa un 5% del massimo della quantità che vado a dare come garanzia questo perché perché ripeto devo studiarmi l'asset che voglio usare cioè se io voglio usare bitcoin e non voglio mai venderlo quindi avere un bitcoin no sell no tax è tutto quello che vuoi quindi tenerlo a vita allora cosa succede che devo conoscere la volatilità di questo asset qual è la volatilità di bitcoin cresce esponenzialmente sì ma quando ritraccia generalmente magari un meno 70% un meno 80% l'ha fatto in passato allora che cosa devo fare devo cercare di tenermi una liquidità a fronte al mio prezzo tale per evitare questo tipo di situazioni esempio bitcoin a 100 se scende dell'80% a quanto arriva a 20 ora se io avessi chiesto in prestito 50 euro perché su bitcoin posso chiedere massimo il 50% di quello che ho dato come collaterale e beh sarei stato liquidato avrei perso i miei bitcoin e quindi si verifica l'evento di vendita cosa che io non volevo fare allora se io prendo in prestito per esempio il 20% a partire da questo collaterale qua significa 20 euro però se bitcoin scende l'80% di nuovo mi liquida allora io che cosa tengo tengo un 5% massimo perché perché con un 5% io sono relativamente sicuro che difficilmente bitcoin raggiungerà un meno 95% di calo è molto molto difficile e allora diventa un prestito più probabile per me da tenere attivo un prestito che posso poi andare a ripagare in qualsiasi momento man mano che vado avanti con la liquidità ma tra poco ti mostro anche nel dettaglio questa parte qui a questo punto che cosa facciamo se volessimo utilizzare i nostri bitcoin come garanzia a questo punto dobbiamo fare due conti perché il prestito minimo che si può ottenere qua sul nexo è di 50 dollari quindi se io volessi usare il 5% mi diventa difficile magari farlo con bitcoin perché io qua ho 100 dollari bitcoin se comprasse altri 100 dollari arriverei a 103 più 165 fai 268 per il 5% significa 13 dollari quindi non avrei abbastanza per prendere in prestito quello che voglio prendere in prestito avrei sostanzialmente cioè dovrei prendere molto più di quel famoso 5% il che non è buono quindi posso fare questo gioco con che cosa posso farlo con per esempio il mio Pax Gold dove il 5% sono 40 dollari ma io posso prendere in prestito per esempio 50 dollari quindi fare leggermente qualcosina in più del 5% perché comunque l'oro tende a essere più stabile rispetto bitcoin quindi non ha un calo del 95% tendenzialmente e quindi noi utilizzeremo l'oro allora come ottenere il nostro prestito per ottenere il nostro prestito devo devo andare su l'asset che voglio utilizzare come garanzia per esempio il Pax Gold e spostarlo nella linea di credito se ho un solo asset posso anche dalla voce di prima borrow funds cliccare lì e avere direttamente il nostro prestito sistemato però in questo caso io voglio utilizzare questa coin specifica perché io ne ho altre nel portafoglio e lui in automatico ti prende tutto quello che hai e te lo mette come collaterale a me questa cosa non va bene io voglio farlo con questo qua mi mostra l'eltivi massimo quindi cosa vuol dire vuol dire che io posso prendere massimo il 70% di quello che vado a depositare nella credit line quindi come garanzia se io metto 100 euro massimo posso prendere in prestito 70 noi prenderemo molto meno ovviamente quindi cosa faccio clicco transfer e vado a trasferire per esempio facciamo così per comodità voglio voglio dare il massimo cos'era 800 io voglio mettere tipo la metà io 0.29 facciamo tipo 0.15 in questo modo vado più o meno a dare 500 ecco qua 400 e qualcosa euro in credit line a questo punto che cosa faccio vado a cliccare borrow clicco borrow e vado a decidere quanto prendere in prestito prendiamo stablecoin posso scegliere se prendere tramite bank transfer quindi farmi inviare euro dollari o sterlina sul mio conto corrente con bonifico oppure stablecoin io voglio prendere stablecoin per esempio usdc quanto vado a prendere non 5000 ma abbiamo detto 50 dollari il minimo è 50.02 va bene prendiamo 50.02 prendo in prestito questo ora mi dice borrow from 5.9 di interesse perché l'eltv è sotto il 20% lo voglio attivare quindi posso farlo vi dico i agree e borrow inserisco a questo punto l'autentificatore a due fattori e voilà mi ha dato i miei 50 dollari adesso io vado nella mia dashboard e quindi adesso abbiamo i nostri 50 dollari di nuovo ricaricati qua quindi abbiamo di nuovo la nostra liquidità i nostri waysdc pronti da usare come li posso usare tra poco ti mostro alcune soluzioni cosa importante ovviamente questi fondi possono essere prelevati inviati puoi fare tutto 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 quello che vuoi voglio adesso vedere però la mia credit line cioè voglio andare a vedere effettivamente che cosa mi ha messo in credit line se io scorro un po' giù avrò ovviamente qui come vediamo è in credit line questa quantità qua da app è molto più facile da vedere questa roba qui vediamo se mi ha preso per caso anche degli usdt me li ha messi in credit line no non ci sono perché guardo questo perché una volta che un asset finisce in credit line quindi come garanzia non ti genera più interessi quindi vado a guardare che questi asset cioè che ci sia solo quello che gli ho chiesto io ok non c'è niente boh perfetto allora ho usato solo quelli che gli ho dato io come linea di credito quindi i pax gold in questo caso se voglio ripagare il debito che cosa posso fare posso cliccare repay loan quindi il repay il mio debito era di 50 dollari quindi gli dico come voglio pagare posso ripagare in wesdt nexo wesdc quello che voglio personalmente uso gli euro per ripagare perché sono più tranquillo che non si vadano a verificare vendite di conseguenza eventi tassabili gli dico quanto voglio pagare e poi pago semplicemente il mio prestito ora andiamo a vedere una cosa importante cioè che cosa posso fare con il mio prestito quindi quali soluzioni ci sono ovviamente ognuno ha esigenze diverse di conseguenza i prestiti possono avere tantissime sfaccettature ti dico per cosa lo uso io e per che cosa lo puoi usare personalmente utilizzo i prestiti per ottenere denaro da utilizzare in leva per acquisire asset cosa significa significa che le principali categorie per cui io personalmente utilizzo il debito è uno non vendere l'asset perché gli asset che io voglio accumulare nel tempo sono asset che credo che andranno a crescere di valore come può essere oro bitcoin e così via di conseguenza non li voglio vendere perché so che il denaro si svaluta so a che gioco stiamo giocando là fuori nell'economia e so che ciò che importa non è avere denaro ma asset a questo punto utilizzarli per avere denaro da utilizzare in leva per fare che cosa tantissime cose nel mio caso quello che voglio è ottenere altri asset il mio gioco è accumulare asset quindi il denaro che prendo in prestito lo prendo in prestito per riaccumulare asset o investire in cose che mi generano flusso di cassa cash flow quindi mi interessano altro denaro con cui posso ripagare i debiti questo è l'unico modo che utilizzo io per prendere in prestito fondi perché grazie a Dio non ho problemi economici che mi obbligano a utilizzare il prestito per pagare le bollette o altre cose non ho di questi problemi di conseguenza lo utilizzo solo esclusivamente per produrmi altro denaro che utilizzo per comprare asset o ho detto altre soluzioni che generano altri soldi quindi investimenti puri sostanzialmente e li utilizzo in leva per reinvestire questo è come lo utilizzo io però c'è magari chi ha bisogno di pagare una rata che ha arretrato allora chiede il prestito per pagare la rata arretrato lì è un altro paio di maniche ognuno poi valuta in base alla propria necessità e alle proprie esigenze nel mio caso per esempio e penso nel caso di molti cosa succede che vediamo bitcoin che ha un certo prezzo magari ci ha già fatto del profitto siamo indecisi se vendere o no perché credo che magari scenderà perché è già tanto alto allora cosa fanno vendono incassando plus quindi fanno la loro plus valenza devono pagarci le tasse poi il prezzo non scende e continua ad andare su allora cosa fanno cazzarola è salito ho sbagliato rientro rientrano sale un pochino e poi crolla e si trovano pinzati dentro vendono in perdita e poi non hanno abbastanza liquidi per ricomprare a prezzi più bassi questo è un esempio c'è anche chi invece è più oculato sul mercato ma la maggior parte di persone fanno così perché non hanno pazienza ora io cosa posso fare qua credo che il prezzo scenderà perfetto allora anziché vendere do come garanzia bitcoin e prendo un prestito questo prestito lo tengo lì come liquidità che intanto su un ex omigena degli interessi e vado a usarla se il prezzo effettivamente scendesse per ricomprare a un prezzo più basso e quindi avere altri bitcoin che posso ridare come garanzia per ottenere ancora più prestito se invece il prezzo va su io comunque non ho venduto i miei bitcoin e quindi continuo a giovare della crescita dei miei bitcoin del valore dei miei bitcoin questo è un esempio di nuovo quindi come vedi ci sono tantissime soluzioni possibili regola generale se puoi utilizzare i prestiti per creare valore e creare quindi più entrate per te questo per me è quello che chiamo il prestito d'oro il glitch che ti permette di ottenere tanto a partire da liquidità di altri e utilizzando i tuoi asset due se lo devi usare al consumo fallo sempre 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 in modo intelligente cioè non prendere prestiti tanto più elevati rispetto a quello che è il collaterale che dai in modo da non andare in liquidazione e dall'altra parte in modo da essere sicuro di riuscire a ripagare pian piano con quelle che sono le tue entrate cioè se guadagni 1000 euro al mese che sono 12.000 euro in un anno non prendere un prestito da 20.000 euro perché tendenzialmente ci vorrà troppo tempo magari per andare a ripagare quel prestito o se lo fai assicurati di avere da una parte una grossa liquidità quindi tanti bitcoin o qualsiasi altra cripto oro qualsiasi cosa da utilizzare come collaterale però cercando di non essere liquidato quindi insomma fai i tuoi calcoli vedi bene la tua situazione in ogni caso è sempre delicato parlare di prestiti quindi mi raccomando fai molta molta moltissima attenzione ti ringrazio per essere stato qui con me qua sotto ti lascio il link di nexo e tutti gli approfondimenti video che ho nominato all'interno di questo video fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e iscriviti al canale per tanti altri suggerimenti di questo tipo e per rimanere aggiornati usciranno la prossima settimana altri video dettagliatissimi con situazioni simili e strategie che puoi implementare per lavorare con i tuoi asset un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo